Ciao Stelina e bentornati sul canale! Questa è la mia morning routine però su Avatar World! Ah! È mattino! Mi cambio Bene! Vado sopra a fare colazione Purtroppo qua non si può redare quindi faccio che dormo da sola Buongiorno mamma! Buongiorno! Metti anche a me Ok io ho fatto colazione vado in bagno Ok mi pettino Scusate ci devo ancora prendere la mano Ok un po' di profumo Ok sono pronta Oh sotto c'erano pulce e nocciolina queste sono sissi e lei l'ha usato un gatto bianco e nero perché non c'era un altro coniglio Io vado a scuola, ciao mamma, ciao stella E prendo il pullman e arrivo Buongiorno a tutti Ecco mi sito qua perché in questi banchi non riesco a sedermi perché sono per i bambini Comunque sto a scuola dalle 8-10 all'1.40 Ok ragazzi lozione è finita, andate pure a casa Oh finalmente posso mangiare Eccomi sono a casa Ciao stella Ciao stella Com'è andata? Bene Ecco mangio pure io vado a fare cose di là E così mangio Non ci sono altri perché sono già arrivati prima mia sorella e l'altra mia sorella è all'asilo Mio padre è andato già al lavoro Perché io torno a casa alle 3-20 quindi ci sta che se non c'è nati via tutti Quindi appunto mangio e vado in camera mia a fare i compiti Faccio i compiti Ok compiti finiti Mettiamo a posto il libro Gnocciolina è ora di andare a fare la passeggiata Dai andiamo E la porto a fare la passeggiata Eccoci qui Siamo venuti al parco Sì io so che sei felice Dai continuiamo la passeggiata Ecco così torno a casa Come pure a riposarti E mi prendo qualcosa da mangiare per merenda E guardo la tele Qua non c'è la tele Faccio finta che è questo quadro Ok guardo la tele Ok adesso è ora di fare la puntata E vado in camera mia Qui preparo tutto Ok la faccio Bene stelline il nostro episodio finisce qui Ci vediamo nella parte 2 della Memoraning Routine Qui si mi sono concentrata più su me stessa Non sul resto della famiglia Perché comunque la sapete già più o meno Ditemi se le preferite qui o su Tocaward Ditemi quale gioco preferite E niente Iscrivetevi al canale Lasciate like Vi prego non disiscrivetevi Perché io ci tengo molto Già non ho tanti iscritti Condividete il video E davvero io sto cercando di attivare i commenti E non so perché sono disattivati Ciao un bacione stelline